Sono arrivate a bordo del dragone dell'associazione Canoa Kayak Versilia, le due Befane della Misericordia di Torre del Lago. Nonostante il tempo incerto, le due sorelle sono sbarcate al molo del club, dove ad attenderle c'erano decine di bambini che le hanno accolte con la musica del corpo musicale Giacomo Puccini. Una volta a terra, sempre accompagnate dalla musica della banda, le due Befane hanno accompagnato i bimbi nel foyer del Gran Teatro, dove hanno distribuito le calze, piene di dolci e giochi. Una manifestazione realizzata dalla locale Confraternita, con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Ad essa è stata legata anche la lotteria, il cui ricavato andrà nelle casse della Misericordia per l'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso. Una Befana che speriamo che nella calza porti qualcosa per il nuovo mezzo che avete intenzione di acquistare. Speriamo davvero che porti qualcosa, in quel senso lì, molto venale, per riuscire a riprendere un ulteriore mezzo, perché ne abbiamo sempre bisogno per aiutare le persone. Noi speriamo tutti che nella sua calza ci sia tanta pace e tanta serenità per tutti i bambini del mondo. Vediamo che purtroppo ce n'è poca. Noi, col nostro piccolo, cerchiamo invece di dargli una mano e di portare questa serenità ai bambini che ci sono qui vicini e ci verranno a trovare oggi.